Hi guys, fa la galera la chicos Ciao ragazzi, benvenuti sul canale di ZioAlpics Siamo qui in una gara smoke the weed Con il grandissimo Xdexta Ciao a tutti ragazzi, qui è Dexta E siamo qui in un nuovo video di GTA V Online Te la continuo io la intro Ok, già vi prendete la scia, non mi piace Mi hanno buttato fuori, guarda qualcuno Probabilmente Alleato a me Esatto, mi ha buttato fuori Comunque io la gara l'ho già giocata Però probabilmente qui non farò un granchier Perché, perché? E' perché ci sei tu che stai giocando Quindi io, forse neanche arrivo a sto punto Io infetto i risultati di Dexta lì Ok, qui c'è un flip bellissimo però Sì, sì, troppo bello Bello, bellissimo Ottimo No, mi hanno colpito il macello Il macello c'è Io per fortuna guardate come sono lontano Perché mi sono scansato tutto il casino Il bordello che c'era all'inizio Qua hanno bloccato le rampe Addirittura no Si, 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 si sono messi in mezzo a bloccare le rampe No, vabbè No, troppo brutto quando succede così Niente Guarda, ora tu finisci il giro E non puoi fare il secondo Perché immagino, immagino È tutto bloccato Stanno saltando tutti Non puoi capire No, no Ora sono appena entrato in uno spinello Così Bellissimo Ok, turbo Saliamo qui Dov'è che sei? Quindi non riesci a fare il primo stand Praticamente No, non riesco perché hanno bloccato le rampe Quindi Non si può Andiamo, 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 andiamo Andiamo Vai che forse ci sono Ok, uno ce l'ho, uno ce l'ho Perfetto Vai Guarda ce l'ho Oh, no, soccardo giù No, soccardo giù come uno stupido Andiamo potenza Via dalle palce Sono, sono in troppi qua Restate lì e date fastidio al senior deck Sta, grazie A tutti No, vabbè Non ci vuole No, vabbè Non si può fare Non si può No, ti giuro Sono tutti Sono tutti là in mezzo Non ti fanno passare Sono bloccato all'inizio Ok, io sto facendo lo stand Forse ce la potrei pure fare addirittura Attenzione Potrei fare Mamma mia Ho fatto un soppasso Mamma mia Che cosa ho combinato Dexter Attenzione Uh, ci sono riuscito Vediamo se riesco a prendere il check No, guarda questo Guardalo No, all'ultimo proprio Si sono messi davanti Eh, così purtroppo Comunque Io sono in tredicesimo Ora non c'era nessuno Fortunatamente sono passato Ora non lo so come andrà Eh, dai Però è un casino C'avevi ragione Impossibile Eh, tu sei partito in prima E ti sei trovato Tutta a strada vuota Bello peato Eh, ti sei ritrovato La strada vuota Io invece Comunque Dove sei? Già al secondo giro penso Sono al secondo giro Però sono bloccato qui sulla stanza Spero che ci riesco Sto arrivando Allora Sono nel cannone No, no, no Cannone Ok, io ce l'ho fatta però Ce l'ho fatta In barba Al traffico Che c'è Qui In lo stantos Bloccate alti Tubi colorati No, no, no Bloccatemi raga Per poter via Bloccate il seno dexta Uh Uh Oh Che bello stanto questo Stupendo, stupendo, stupendo Che ti un'occhiata Ok Bello Mi piace Io Ora sono praticamente al secondo giro Sempre in prima Sempre in prima posizione Ho visto che la scritta Wineweed Significa con l'erba L'ha fatto il creatore Stupendo Bravissimo Sì Questa gara è bellissima Ma veramente bella 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 Solo che quando trovi Le rampe bloccate È un po' un problema Eh, quello sì Quello sì Io mi sono un po' girato Madonna Ce la faccio Abbiamo preso il checkpoint Grazie per la spinta Bro Grazie, grazie Bro Scusami Ok Terzo giro per Zio Arfix E dexta Dov'è? Dodicesima posizione Ce la facciamo a recuperare Che dici? Non credo Non credo perché Dov'è che sei Ti vorrei raggiungere Niente Eri in ottava Ma sono ricomparso Perché è andata male Mannaggia E tu volevi le collisioni Eh Questo è Questo è Collisioni bastardissime A volte Ok Questa volta Forse è sbagliato Forse è sbagliato Andiamo un po' È impossibile Però ci sono Attenzione Vai Attenzione Ho superato In maniera totalmente Cioè alternativa Il macello Sì Più totale Vai Perfetto Sono in nola Comunque Cioè non è Non è che sono In chissà quella posizione Però Vabbè Io L'importante è concludere Io sono in prima posizione Ma ho 40 secondi Il secondo Il problema è che No Non è funzionato il flip Questa volta Eccolo il problema Vai Blocca te Al Seconda posizione Guarda Vai Tu sei una No però Terza posizione Vai che ora Ti blocchi Ti recupero E vinco io E vinco io Non ci credo Non ci credo Guarda questo Come lo so passato Tipo l'ho stuprato Proprio da sopra Ok Dimmi che funziona Questa volta il flip Dimmi che funziona No 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 Mamma mia Proprio l'ultimo L'ultimo secondo Sono riuscito a superarlo E qui E qui E qui E qui Non l'ho fatto Non l'ho fatto Non l'ho fatto Vai grandissimo Ti giuro che potresti anche Prontare tu per la prima posizione Allora io sono ora Al terzo giro E io sono ora Al settimo posto Quindi sono davanti Grandissimo Bravo Guarda questo Pio Giorgio Manco Manco Si Manco No Ti ho colpito Ti ho colpito Ero io Vediamo se posso fare il flip Vai Mi hanno spinto Grandissime Attenzione ho superato Alpix Il recupero Astronomico Quarta Quarta posizione Seconda posizione Attenzione Sono dietro a te Mamma mia Il recupero No Come faccio a perdere questa cara Vai 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 Ci siamo dentro Perfetto Ok perfetto No Non ce l'ho fatto Grandissimo Mamma mia Bellissimo Seconda posizione Stai Mi sto divertendo tantissimo Prima Sono in prima ora No Cazzo Eh vabbè c'è sempre quello davanti Perché sto facendo gli stunt Merda quello è proprio davanti a me Girati Ok andiamo 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 Cazzo Il primo è proprio davanti davanti a me Guardatelo come gode Guardatelo come felice Con un bambino Con un bambino con un gelato in mano Con il gelato preferito Sì perché quando arrivo prima di te In queste gare Praticamente truccate da te È un piacere Sì perché tu mi hai lasciato Le portate pure sul tuo canale Terza Quarta posizione per me Terza Tu mi hai lasciato indietro Tutti quei bastardi Che bloccavano le rampe E poi il karma Ha fatto il suo dovere Visto Eh già Terza posizione per Zalfix però Tu seconda Vabbè non ti recupero Vabbè l'importante Seconda Seconda Boom Concludo Entro nel cannone Proviamo uno stunt Così a caso Ci riusciamo Ok è concluso Sì sì Complimenti Deve che sta complimenti Complimenti per il pianto E per le macumbe Tirate Zalfix Spero almeno Che di salute Sarò bene Per tutta la settimana Scherzando dai Terza posizione Sto facendo un tarto slide Enorme qui Col Col tettuccio Perfetto Ok Chiudiamo In terza posizione ragazzi Mi raccomando Lasciate un like Se il video vi è piaciuto Iscrivetevi al canale Di Dexter E ci vediamo Al prossimo video Ciao ragazzi Ciao a tutti